Buongiorno bambini, mi chiamo Cinzia e fino a pochi giorni fa sono stata la direttrice del conservatorio Franco Vittadini di Pavia. Sapete cos'è un conservatorio? E' una scuola bellissima dove si fa musica. Al Vittadini infatti potete imparare a suonare il violino, il violoncello, il pianoforte, la chitarra, il flauto e tanti altri strumenti musicali. Ai laboratori di musica ci si può iscrivere già all'età di quattro anni. Quest'anno purtroppo, per i motivi che sappiamo, non è stato possibile attivare i laboratori dove i bambini cantano e suonano in gruppo, ma sono sicura che l'anno prossimo tutto tornerà alla normalità. Per tenermi compagnia in questi giorni in cui siamo in casa, Vittadini ha pensato di raccontarvi brevi ma bellissime storie. Monica Fogazzi è la voce narrante, Claudia Catenelli ha realizzato i bellissimi disegni e gli insegnanti dei laboratori di musica si sono occupati della parte musicale. Sono sicura che vi piaceranno tantissimo e poiché siamo in dicembre permettetemi di augurare a voi e alle vostre famiglie serene feste. Grazie. 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 Grazie.